In questa lezione grammaticale sulla lingua airbrush andiamo a parlare delle sillabe. La divisione in sillabe delle parole airbrush è abbastanza semplice, ma differisce dall'italiano per la presenza di alcuni gruppi consonantici, come mb, nd, 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 ndj, 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 ndx, ft, fsh, che nella divisione sillabica non si scompongono. Per semplificare si può dire che in albanese tutti i gruppi consonantici che possono ritrovarsi anche ad inizio di parola non si separano nella divisione in sillabe. Bisogna ricordare che una consonante che si trova tra due vocali forma sillaba con la vocale che la segue, mentre un gruppo di consonanti che si trova tra due vocali fa sillaba con la vocale che lo segue a condizione che sia un gruppo consonantico che può stare anche ad inizio di parola. Quando due consonanti consecutive non si ritrovano mai ad inizio di parola, la prima fa parte della sillaba precedente, la seconda della seguente. Poi, se in una parola sono presenti due vocali consecutive, la prima fa parte della sillaba precedente, mentre la seconda della seguente. Bisogna ricordare che la J è da considerare una consonante. E infine, le parole composte si sillabano secondo i loro elementi costitutivi. Ora parliamo dell'accento. Nella lingua herbreche, l'accento tonico può cadere su qualsiasi sillaba della parola. Nelle parole plurisillabe sono per la maggior parte piane. Le sdrucciole o le bisdrucciole si ritrovano nella flessione di alcuni nomi o nella congiunzione dei verbi. Quindi, come in italiano, in base alla posizione dell'accento, le parole si distingueranno in tronche con l'accento sull'ultima, piane con l'accento sulla penultima, sdrucciole con l'accento sulla terz'ultima, bisdrucciole con l'accento sulla cort'ultima. Nella lingua scritta non si usa l'accento grafico. E di fine andiamo a parlare delle abbreviazioni e delle sigle. L'abbreviazione può essere costituita da uno o più lettere iniziali nella parola, ma sempre in maniera tale che non coincida con la divisione sillabica. Si può abbreviare, oltre che una parola o un gruppo di parole di uso frequente, anche il nome di una persona nota quando è seguito dal cognome. Anche le abbreviazioni seguono le stesse regole dell'italiano. Uno, dopo l'abbreviazione si segna sempre un punto. E due, non richiedono il punto le abbreviazioni che indicano una misura. Le sigle, invece, sono costituite da lettere maiuscole che indicano le soli iniziali delle parole che compongono il nome di uno stato, di un'azienda, di un'associazione, di un ente oppure di un partito politico. Tra le lettere di una sigla non si pone mai il punto, nemmeno quando le lettere si nominano separatamente. Quando una parola inizia con un diagramma, entrambi i segni verranno rappresentati nella sigla e tutte e due maiuscoli.